Sono momenti molto, molto, molto terrificanti, anche perché non sai cosa fare, quindi sono stati 30-40 secondi di terrore. Aggrediti e pesati a sangue con delle mazze da baseball fuori da una bar di case nuove di Ceciliano, immediata periferia a Retina. È successo ieri mattina, torno alle 12, una vicenda in cui i contorni sono ancora tutti da chiarire, ma tutto lascerebbe pensare ad una spedizione punitiva. Il violento episodio si è consumato nel giro di pochi minuti. Tre giovani albanesi, dopo aver pranzato, stavano infatti prendendo un caffè seduti nei tavolini fuori dal locale, quando nel piazzale è sbucata improvvisamente un'auto a tutta velocità, dalla quale sono scesi quattro uomini, probabilmente dei connazionali. Li hanno aggrediti proprio con mazze da baseball, attroce la cosa. Devo dire che sono rimasto scioccato, perché non avevamo visto una cosa del genere. Hanno spaccato il vetro, il vetro vedete ancora è rotto e poi hanno rotto diverse seggie e un tavolo. Infatti al di là della paura ci sono stati anche diversi danni al vostro locale. Abbastanza. Nove sedie, un tavolo e il vetro che mi hanno detto se a girare montone 3.000 euro di danni. All'arrivo dei carabinieri, aggressori ed aggrediti erano già spariti a tutta velocità. Quattro dalla parte, loro messi abbastanza male dall'altra. Al momento c'è massimo riservo sull'episodio da parte degli inquirenti. I militari dell'arma stanno cercando di risalire all'identità dei responsabili. Al vaio anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza.